Fintech 24, blockchain, mobile banking, criptovalute e investimenti digitali per comprendere innovazioni, pericoli e opportunità dell'economia del futuro. Allora, eccoci tornati con la seconda parte della nostra puntata relativa alla PSD2 e l'open banking, sempre con il nostro Michele Mattei. Salve a tutti. Allora, in questa puntata che cosa andiamo a trattare? Faremo una panoramica un po' più discorsiva, meno tecnica sicuramente, su come la PSD2 ha cambiato una serie di parametri che noi ci siamo dati che non vi sto a pronunciare. E soprattutto poi vedremo un attimo, parleremo dei benefici per il consumatore, sia lato proprio privato che lato impresa e vedremo anche il guadagno dietro tutta questa grande operazione da parte delle banche. Allora, inizierei subito, partirei subito con... andiamo a capire un attimo come cambiano gli acquisti online, andiamo a vedere come cambiano la gestione dei conti correnti, i servizi offerti dalle banche relativamente, che ne so, a prestiti piuttosto che mutui, eccetera, eccetera. E farei una parentesi finale sul discorso poi della sicurezza. Certo. Io direi di partire subito da quello che è un pochino più la... la cosa un pochino più odierna, che sono gli acquisti online. Comunque negli ultimi anni c'è stato uno spostamento importante di quello che è l'acquisto di beni, sia primari che secondari, quindi verso l'online e tralasciando un po' quella che è la parte pratica. Tra l'altro alcuni analisti e alcune società di consulenza iniziano già adesso a lavorare su progetti di acquisto di auto totalmente online, un po' come sta facendo Tesla, che è un po' un grande scoglio a livello di praticità, a livello di comodità e abitudini del consumatore finale. Che cosa cambia quindi con la PSD2 e con l'open banking? Cambia quello che è l'esperienza utente del consumatore finale. Mentre prima se io dovevo andare su un e-commerce a pagare con una carta di credito, io dovevo dare tutta una serie di informazioni. Quindi ad esempio vado su un qualsiasi e-commerce, vado su Shopify, mi compro un paio di scarpe, pago con la mia carta di credito, devo comunque conoscere il codice della mia carta di credito, devo conoscere il codice di sicurezza, devo sapere la password. Spesso e volentieri ci sarà da mettere anche un secondo codice o da approvare la transazione attraverso un'applicazione. Attraverso la PSD2 io posso andare a semplificare tutto questo flusso concedendo direttamente ad un'applicazione terza o all'e-commerce stesso le credenziali per accedere alla mia carta di credito e quindi per avere la conferma che quella carta di credito è mia, che c'è un importo sufficiente per frutturare la transazione e che può andare a buon fine una transazione. Quindi in questo modo si può assolutamente velocizzare quello che è il flusso normale di un acquisto online, un po' come fatto da Amazon. Infatti Amazon tanti anni fa aveva brevettato un sistema di pagamento chiamato One Click. Come molti di voi sicuramente sapranno, nel momento in cui io entro su Amazon e aggiungo cose al carrello, fino a poco tempo fa mi bastava un solo click per effettuare l'acquisto. Quindi c'era già una carta di credito associata al mio account, c'era già un indirizzo di spedizione, era già tutto predisposto, io avevo dato le mie autorizzazioni ad Amazon e con un solo click riuscivo ad effettuare quel pagamento. La stessa identica cosa può succedere adesso con le applicazioni di terze parti. Ad esempio potrò in futuro comprare qualcosa su Shopify dicendogli paga con Satisfay, premendo un solo pulsante Satisfay, magari attraverso il Face ID del mio iPhone, mi guarda in faccia, mi riconosce, sa che sono io e con un solo click ho effettuato una transazione. O magari, o magari, te la espando, oltre ad avere Satisfay potremmo avere anche altre app e lui mi fa scegliere tra una diversa soluzione. Assolutamente, ad esempio, sempre diciamo partendo dal presupposto che questa applicazione viene fatta da mobile, ad esempio con un cellulare, può utilizzare Apple Pay o Samsung Pay, che sono già precaricate sul telefono. Quindi, attraverso tutta questa apertura verso i sistemi di pagamento, verso le app di terze parti, dovremmo riuscire a rendere molto più agevole la vita del consumatore finale, che non ha più bisogno di entrare in un'applicazione o inserire mille codici per portare a termine una transazione. Secondo te, tutta questa prima parte può andare un po' a semplificare anche la gestione del nostro conto corrente? Assolutamente sì, perché comunque siamo partiti, non so se ti ricordi, nella scorsa puntata, parlando di come vengono gestiti più conti correnti da una sola persona. Io ho fatto l'ultima volta l'esempio di Yolt, che è questa applicazione europea, tra l'altro fondata e sviluppata da una banca olandese che è ING, che ti permette di gestire in maniera molto semplice conti correnti differenti su banche differenti. Questo è, secondo me, un'applicazione estremamente utile, ma uno sviluppo tecnologico estremamente utile, perché posso trovare tutto nello stesso posto, posso accedere ad un'applicazione sola, inserire i dati ad un'applicazione sola e avere una panoramica globale di quello che sta succedendo. Ma quello che vediamo succedere adesso con Yolt, o comunque sia nei prossimi mesi con anche altre applicazioni, secondo me si sposterà tutto verso i grandi giganti del tech, perché tutto quello di cui stiamo parlando adesso e di cui abbiamo parlato la scorsa volta, ci riporta ad un fattore comune molto importante, che è quello della tecnologia. In questo caso ci sono Amazon, Google e Facebook che stanno sviluppando tutti gli stessi sistemi, sia di pagamento che di raccolta dati, che di card issuing. Quindi quello che io mi aspetto è che nei prossimi anni riusciremo a magari gestire i nostri conti correnti utilizzando Facebook o magari utilizzando Amazon. Per esempio, ti faccio un esempio molto semplice, in Messico Amazon ha già ottenuto una licenza bancaria per effettuare i conti correnti su Amazon. Chissà cosa ci riserve il futuro, anche se, diciamo faccio una piccola paranzia, questo è molto importante perché se voi siete avversi a quello che è tutto il social, parlo di Facebook e di Instagram, come il sottoscritto, non ho un account Facebook, non ho un account Instagram, non sono su nessun social. Scappa finché puoi. Esattamente. Devo assolutamente trovare una soluzione. Qualcuno ha evidentemente pensato una soluzione anche per me, povero Cristo, o volenteroso di non avere alcuni strumenti digitali relativi appunto alla parte social della mia vita. Certo. Come funziona, come cambiano allora con l'introduzione di questi PSD2 i servizi erogati ed offerti da parte delle banche? Presidi, mutui. Certo, qui secondo me è dove veramente si va a semplificare la vita dell'utente, perché facendo un paragone, se prima con gli acquisti online la semplificazione della mia vita era limitata, perché comunque sia già adesso effettuare un acquisto online non era particolarmente complesso, invece la richiesta di un mutuo o la richiesta di un prestito è effettivamente molto complesso, richiede molti documenti, richiede la presenza fisica e richiede tutta una serie di informazioni e capacità e dimostrazioni da parte del consumatore finale che non sono assolutamente banali. In questo caso l'open banking riesce a dare veramente una grossa sferzata a questo tipo di flussi. Facciamo un esempio molto semplice, diciamo che io voglio un prestito dalla mia banca. Che cosa dovrei fare adesso? Dovrei andare in banca? Dovrei dimostrare la mia identità, dimostrare le mie entrate e le mie uscite, dimostrare di avere un reddito ed eventualmente fornire garanzie. Per fare tutte queste quattro operazioni ho bisogno di documenti che spesso non si trovano nello stesso posto, ad esempio ho bisogno della busta paga per dimostrare i redditi, ho bisogno del 730 o comunque sia della dichiarazione dei redditi per dimostrare le mie entrate e uscite, ho bisogno comunque sia di tutta una serie di documenti che non sono semplici da poter portare, che sono molto privati. Attraverso l'open banking io posso poter collegare ad esempio la mia utenza speed, quindi la mia utenza verso l'agenzia delle entrate, con la mia utenza della banca e dimostrare tutta una serie di cose, ad esempio posso dimostrare dove sono residente, qual è la mia identità, quali sono state le mie entrate e le mie uscite e qual è il mio reddito attuale. Tutto questo semplicemente da mobile o comunque sia da remoto, quindi accedendo semplicemente ad un computer. Quindi facendo comunicare due banche o una banca alla pubblica amministrazione riesco ad evitare tutta una serie di funzioni, di documentazioni, di processi burocratici particolarmente complessi che magari spesso scoraggiano anche l'utente finale da richiedere quel determinato servizio. In questo senso diciamo che secondo me il beneficio è mutuale, perché da una parte il consumatore finale ha una semplificazione della vita importante, dall'altra anche le banche riescono comunque a derogare più servizi, quindi più prestiti e più mutui, perché rendendo il servizio più semplice riesco a renderlo accessibile a più persone. Meraviglioso, più chiaro di così, proprio mi è capitato nella mia piccola esperienza, io riporto sempre la mia piccola esperienza, perché è quello che può essere successo a ognuno di noi. Io mi ricordo quando mi sono trovato nella situazione in cui ho avuto l'esigenza, il bisogno di acquistare una autovettura, quindi sono andato al concessionario, bello, contento e felice, mi compro la macchina, vado, questo mi siede davanti a lui e questo mi chiedeva una tonnellata di documenti infiniti, tra cui mi ricordo che mi chiese due o tre buste paga, io subito pronto con il mio smartphone, l'iPhone subito, te lo mando per i mail, lui apre la busta paga e mi dice no, qui c'è qualcosa che non va, perché dalla tua busta paga risulta che... ed era venuto fuori una problematica, una problematica che poi mi ha portato a chiedere addirittura una garanzia nel caso in cui io fossi divenuto insolvente, perché in quel periodo stavo, diciamo, mi stava finendo il... mi stava a scadenza il mio contratto, io stavo prendendo un finanziamento di, mi pare, altri quattro anni o qualcosa del genere e giustamente il concessionario mi ha detto no, guarda, il finanziamento così non me lo... la società che ti eroga il finanziamento non me lo passa, non me lo passerà mai, e quindi devi venire con qualcuno che mi possa fare da garante e in quel caso dovetti prendere il mio padre e dirgli oh, ma aiuti un attimo. Nonostante poi il mio, diciamo, c'era una clausola nel mio contratto per cui se non avessi ricevuto una chiara disdetta e tre mesi prima in cui ovviamente già rientravo, quindi loro mi avrebbero già dovuto avvisare, però non c'è stato verso in quel senso e allora ho dovuto far intervenire addirittura una terza parte. Questo a titolo esemplificativo perché quante volte ci può succedere a noi per... dobbiamo chiedere un mutuo, dobbiamo chiedere un pressito, dobbiamo comprare un'altra nuova... Di rimanere incastrati nella macchina della burocrazia e magari rinunciare... Bravissimo, bravissimo, esattamente. Però tutto questo poi si scontra con l'ultimo punto che avevamo tirato in ballo, che era appunto il discorso della sicurezza. Certo. Dal punto di vista della sicurezza ci tengo comunque sia a sottolineare quanto tutto questo processo è basato sulle stesse tecnologie che rendono affidabile e sicuro l'online banking attuale. Quindi come io accedo al mio conto corrente attraverso lo smartphone, attraverso il computer adesso potrò dopo accedere alle app di terze parti o farle dialogare con i miei conti correnti attraverso le stesse identiche tecnologie. Quindi il concetto di cui parlavamo l'altra volta, le API, non sono assolutamente qualcosa di nuovo o di innovativo. È una tecnologia che esiste da tantissimo tempo e è il metodo comune attraverso il quale i diversi applicativi si parlano. Ad esempio come il mio computer può parlare con, come due applicazioni sul mio computer possono parlarsi per condividere dati. Quindi è qualcosa di assolutamente normale. E non solo è sicuro quanto lo era prima, ma da un certo punto di vista lo diventa ancora di più. Perché andando a spulciare quello che deve succedere a livello di PSD2 e Open Banking, si viene a scoprire che i pagamenti attraverso le carte di credito diventano, lato issuer bank e lato banca appunto, diventano molto più complessi da un punto di vista di approvazioni e di sicurezza. In quanto per effettuare, per finalizzare un pagamento, un utente finale dovrebbe dimostrare di possedere due qualità, diciamo due variabili su tre da un elenco estremamente preciso. Un elenco di tre variabili che sono esattamente qualcosa che tu hai, qualcosa che tu sei e qualcosa che tu puoi dimostrare. E per riportarlo a qualcosa di molto semplice è qualcosa che tu hai, ad esempio un telefono o una chiavetta di quelle che ti dà la banca con il PIN, qualcosa che tu sei, quindi identificare la tua persona e qualcosa che tu conosci, che è ad esempio una tua password. E per effettuare un pagamento attraverso una qualsiasi carta di credito dopo la piassa di due, una persona dovrebbe dimostrare di possedere almeno due di queste tre. Quindi la banca dovrebbe comunque sia, o la banca, o la carta di credito, o l'e-commerce dovrebbe comunque sia darti la possibilità di appunto elargire due su tre di queste informazioni. Poi ovviamente che cosa succede? I giganti del tech come Amazon oppure le grandi banche come Intesa San Paolo dicono no, va bene, semplifichiamo la vita del consumatore, io lo riconosco una volta, quindi lo riconosco all'inizio, so che è lui, oppure ti do l'applicazione sul telefono in maniera tale che ho già dimostrato due cose con un'applicazione sola e gli semplifico la vita. Però effettivamente dietro c'è una gestione della sicurezza ancora più, diciamo, più approfondita e più dettagliata rispetto a prima. Quindi diciamo che da questo punto di vista possiamo stare tranquilli che i nostri dati sono al sicuro e che le nostre transazioni sono sempre abbastanza tranquille e sicure. E questo è un dato, secondo me, molto importante perché non tutti sarebbero magari propensi a condividere le informazioni del proprio, tra virgolette, conto corrente verso terze parti. Esatto. Per un discorso di privacy, per un discorso proprio di sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo parlato, abbiamo fatto una panoramica di un sacco di punti interessanti. Devo dire che abbiamo dinoccolato più che altro i benefici per quanto riguarda il consumatore finale, cioè l'utente privato. Io, nella fattispecie, tu, nella fattispecie, un altro di noi, qualunque. Ma se invece ribaltassimo il discorso a livello impresa, per cui parliamo anche al lato investitori, no, investitori, perdono, lato imprenditori. Allora, da questo punto di vista, secondo me, c'è da fare una grossa distinzione. Dal punto di vista, diciamo, aziendale, chiamiamolo dal punto di vista corporate, si distinguono due categorie. La prima categoria è dei financial services attuali, quindi dei grandi player del mercato bancario e dei pagamenti che già erano presenti sul mercato e dall'altro ci sono le nuove start-up che stanno venendo fuori nel mondo fintech, quindi i nuovi imprenditori che stanno offrendo nuovi servizi proprio adesso. Come hanno reagito le banche? Inizialmente le banche erano molto ostiche rispetto sia alla PSD2 sia al mondo fintech in generale. Poi, con il passare del tempo e con, diciamo, la consapevolezza che questo era un tsunami che non si poteva fermare ma ci si doveva solamente adeguare, hanno iniziato ad investire pesantemente sia nel mondo del fintech che verso l'innovazione. Quindi, come possiamo vedere anche nella vita di tutti i giorni, inizialmente le banche erano ostiche anche a sviluppare le proprie applicazioni, erano ostiche ad aprirsi verso i servizi di terzi, erano ostiche addirittura ad aprirsi verso i servizi di pagamento dei grandi giganti del tech come ad esempio verso quelli di Apple. Invece, negli ultimi tempi, soprattutto, secondo me, nell'ultimo anno c'è stata una grande accelerata delle banche verso l'innovazione, verso questo nuovo tipo di tecnologie ma anche verso gli investimenti nel fintech. C'è stato un aumento incredibile nel 2018 e nel 2019 del venture capital verso le start-up del fintech. Hanno investito veramente tanto per due motivi, secondo me. Da un primo punto di vista per una questione di profitto perché comunque è un mercato nel quale si stanno facendo dei numeri giganteschi e che sarà effettivamente il mercato il futuro dei servizi finanziari e dall'altro per una strategia difensiva perché effettivamente ci sono delle banche che non avrebbero retto l'urto con alcune di queste nuove start-up e non potevano in alcun modo difendersi se non entrando a far parte dello stesso gioco quindi investendo nelle start-up acquisendole comprando partecipazioni importanti prima che queste start-up diventassero troppo grandi per farti un esempio molto semplice in Europa abbiamo N26 Revolut in Italia scusa in America abbiamo Robinhood abbiamo Kim tutte queste start-up finanziarie nate negli ultimi 4-5 anni che stanno facendo numeri giganteschi hanno tutte almeno una partecipazione da una grande banca da un grande service provider perché sono qualcosa che le banche da una parte non possono permettersi di lasciarsi sfuggire in termini di investimenti dall'altra qualcosa contro il cui hanno un po' paura di dover lottare e quindi c'è stata questa apertura da parte loro e l'altra parte della medaglia sono i nuovi imprenditori sono appunto queste nuove start-up che stanno che stanno venendo fuori che attraverso la PSD2 e l'open banking hanno visto aprirsi ad un mondo di possibilità perché effettivamente qualcosa come Yolt qualcosa come Satispay qualcosa come Oval Money anche o come Robinhood non sarebbero state possibili senza questa apertura verso il mondo bancario quindi diciamo che quello che è nato come un po' sembrava quasi una minaccia verso le banche una minaccia verso il sistema bancario adesso sembra dare benefici mutuali sia verso le banche che verso i futuri imprenditori che ovviamente e soprattutto verso il consumatore finale mi hai un po' anticipato la domanda finale cioè dove sta a questo punto il guadagno da parte delle banche oltre a investire nelle start-up e quindi ad avere una partecipazione nel capitale sociale di queste società che prima hai menzionato vediamo e quindi magari comprando ripendendo a terze parti anche la loro partecipazione o addirittura vendendo in blocco la start-up già avviata come fonte di tra virgolette reddito no? di profitto fondamentalmente esiste anche un guadagno più diretto da parte delle banche? allora iniziamo subito con il dire che negli ultimi anni i profitti delle banche sono sempre andati assottigliandosi perché comunque un po' la nascita di nuovi modelli di business un po' le problematiche derivanti dagli interessi ad esempio su molti strumenti finanziari utilizzati dalle banche come i mutui ed i prestiti si sono via via andati assottigliandosi questo ha causato un abbassarsi dei profitti delle revenue in questo modo le banche hanno visto spostarsi i loro diciamo i loro business models verso strumenti di guadagno differenti ad esempio negli ultimi anni abbiamo visto molto la vendita di assicurazioni da parte delle banche questo è stato un grosso shift in quello che erano i loro modelli di business standard stiamo vedendo la stessa cosa con il fintech perché molte delle banche inizialmente vedevano questo nuovo mercato queste nuove innovazioni come una minaccia perché pensavano che sarebbero andati a derodere ancora di più quelle che erano i loro già abbastanza sottigliati guadagni invece con il passare del tempo hanno capito che il fintech in generale ma più nello specifico le innovazioni tecnologiche derivanti dalle start up che investivano nel mercato fintech potevano essere per loro un volano come poteva essere utilizzato questo volano poteva essere utilizzato andando a prendere sul mercato quindi andando ad investire sulle start up fintech e acquisendo start up fintech per arrivare a quelle competenze tecnologiche che magari le banche non avevano internamente faccio un esempio molto semplice è quasi impensabile che la piccola banca locale o la banca regionale si metta a sviluppare la propria applicazione proprietaria per permettere all'utente di usufruire dei propri servizi attraverso smartphone è invece più diciamo più più semplice pensare che questa piccola banca possa esporre le proprie API magari appoggiandosi a piattaforme già tecnologicamente evolute o appoggiandosi a banche di dimensioni più grandi per esporre i propri servizi all'utente finale attraverso piattaforme terze questo è molto più semplice per loro allo stesso modo possono interfacciarsi con applicazioni di pagamento per offrire i servizi di pagamento online senza il bisogno di magari appoggiarsi a Visa o Mastercard quindi che cosa succede mentre all'inizio vedevano con molto astio con molta diciamo paura di fidenza esatto di fidenza queste innovazioni adesso stanno iniziando un pochino più a vederne i lati positivi e abbiamo visto questo cambiamento negli ultimi anni attraverso gli investimenti infatti devi sapere che nel 2018 e nel 2019 abbiamo toccato il picco per gli investimenti in Venture Corporate Capital che sono gli investimenti fatti dalle aziende quindi in questo caso ad esempio dalle grandi banche e dalle finanziarie in nuove start-up fintech la stragrande maggioranza delle start-up fintech attualmente è finanziata direttamente e indirettamente da fondi di investimento da banche da finanziarie anche da assicurazioni ti faccio un esempio molto semplice Oval Money ha una partecipazione molto importante di Intesa San Paolo le più grandi banche statunitensi come ad esempio C.P. Morgan Goldman Sachs hanno tutte una grossissima voce nelle start-up di investimenti americane questo perché è effettivamente più semplice per loro investire in start-up approfittare di questi modelli di business invece che cercare di combatterli Bene Allora facciamo un breve esunto di quello che è stata questa seconda parte della PSD e dell'open banking quindi abbiamo visto come cosa cambia per il consumatore per l'impresa le modalità di acquisto online la gestione dei conti correnti i servizi offerti alle banche lato prestiti finanziamenti piuttosto che mutui la sicurezza anche dei dati che noi forniamo attraverso le application programming interface le API quali sono i benefici che sono derivati sia per il consumatore finale che per le imprese da tutto questo grande discorso e infine il guadagno delle banche Allora Michele io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato Grazie a te Non vedo l'ora di partire con una nuova avventura sempre con te per il momento ti ringrazio e ti saluto Grazie a tutti Ciao ciao Grazie Ciao Fintech 24 Blockchain Mobile Banking Criptovalute e investimenti digitali per comprendere innovazioni pericoli e opportunità dell'economia del futuro